Giorgio Parisi, quando vinse il premio Nobel, ebbe una reazione un po' curiosa. I giornali scrivono che aveva detto perché ho vinto non lo so, lo devo ancora capire. Non ho avuto il tempo di leggere le motivazioni, neanche di scaricarle, sono 17 pagine. La motivazione breve che ho visto è quella che riguarda i miei studi sui sistemi complessi. Questo tipo di commento che ha fatto è qualcosa che ci deve fare riflettere. Il giornalista dice Giorgio Parisi fa ancora fatica a realizzarlo. No, non si tratta di questo, è qualcos'altro. Il suo commento è perché ho vinto non lo so, lo devo ancora capire. Può darsi che nel frattempo abbia letto quelle 17 pagine e lo abbia capito, però è emblematico che la motivazione per un premio Nobel richieda così tanto spazio e che lo stesso vincitore non sappia bene per quale motivo lo abbia vinto. Un anno prima il premio Nobel fu dato a Roger Penrose, un britannico, per un teorema importante sui buchi neri, un teorema matematico. Allora fui un po' perplesso perché non sapevo come spiegare a chi non è dell'ambiente, ma neanche alle persone che sono dell'ambiente, per quale motivo lo avesse vinto lui, non lo avesse vinto qualcun altro. Ci sono tanti risultati importanti e quando si deve fare una scelta bisognerebbe motivare non soltanto perché si fa quella scelta, ma anche perché non si fanno le altre scelte. Mi consolo quindi con il fatto che l'anno successivo non sa spiegarsi come l'ha vinto nemmeno chi l'ha vinto. Figurarsi se posso spiegarvelo io. Ora vi racconto una piccola storia. Esattamente un anno fa nella cassetta delle lettere dell'università trovai una lettera dell'Accademia di Svezia nella quale mi si chiedeva di indicare tre nomi per suggerire candidati al premio Nobel per la fisica di quell'anno, cioè del 2021. La prima reazione che ebbi era interessante, l'Accademia di Svezia vuole conoscere il mio parere. Poi mi sono un po' insospettito e mi sono chiesto ma forse non è che manda queste lettere un po' a pioggia, un po' a tutti quanti? E allora sono tornato nella zona del piano nel quale sta il mio ufficio dove si trovano le cassette delle lettere di tutti quanti e molte avevano ancora questa lettera dell'Accademia di Svezia perché tra pandemia e il resto molte persone non avevano ancora ritirato la posta e quindi capì che era stata mandata quella lettera a pioggia, probabilmente avendo scelto una zona geografica, in quel caso l'Italia, probabilmente perché secondo l'Accademia di Svezia toccava quell'area geografica e probabilmente allora l'anno prima erano state mandate lettere a varie università e istituti britannici perché secondo l'Accademia di Svezia, lo dico sempre probabilmente, toccava quell'area geografica. Capite bene che un premio che viene dato con questo tipo di motivazioni non ha la stessa forza di un premio nel quale il risultato conseguito, la scoperta fatta e così netta e chiara da non avere dubbi sull'importanza, sulla necessità di dare quel premio a chi l'ha vinto. Lo stesso Parisi riferisce i suoi studi sui sistemi complessi premiati quest'anno, l'anno scorso, a studi che risalgono a più di 40 anni prima. All'inizio del 1900 il premio Nobel veniva dato a scoperte fatte nell'anno stesso, perché questo era il volere di Nobel quando istituì il premio Nobel. Come lo so, beh lo potete trovare su internet, ma in quel caso stava proprio scritto sulla lettera che mi hanno mandato, dove però poi si spiegava che nel corso degli anni le regole per l'assenazione del premio erano state cambiate rispetto a quello che Nobel voleva inizialmente. Non sono soltanto gli ultimi due premi Nobel che mi hanno lasciato un po' perplesso, è da parecchio per vari motivi, soprattutto i premi Nobel teorici, ma ci possiamo tornare a fare quella domanda che abbiamo fatto a chiusura del video sulla seconda parte della teoria delle stringhe. È possibile che i teorici delle stringhe vincano il premio Nobel? La risposta è senz'altro sì. Se questo è il premio e se questi sono i criteri con i quali viene dato, è indubbio che anche un teorico delle stringhe può vincerlo, soprattutto perché nel corso di decenni hanno piazzato persone loro in grandissimo numero a occupare posti in centri di ricerca e università di tutto il mondo. E pertanto se l'Accademia di Svezia decide che è venuto il momento di dare il premio, magari non per area geografica, ma per area tematica, e invia a pioggia quelle lettere in istituti e università oculatamente scelti dove sono forti quei gruppi, nel senso che hanno molti posti, che hanno occupato molti posti, non perché la teoria sia forte, lo sappiamo tutti quanti, benissimo a quel punto il risultato sarà scontato. Sarà una votazione, un plebiscito alle personalità più influenti della teoria delle stringhe, anche se non sarà credo proprio teoria delle stringhe, ma una delle sue ramificazioni successive come la DS-CFT, di cui non abbiamo parlato mai in questo canale e di cui non parleremo perché non vale proprio la pena parlare. Però il punto è questo, il punto è che nel corso degli ultimi anni si è quasi, e questa è una mia impressione e anche predizione per il futuro, preparata la strada per darlo proprio ai teorici delle stringhe. Quindi sono convinto che succederà, potrebbe succedere proprio quest'anno oppure uno degli anni successivi. Probabilmente qualcuno storcerà il naso, però sapete, se si comincia a scrivere motivazioni di 17 pagine o anche 20 pagine o anche 25 pagine, beh ci si può mettere di tutto e di più e quindi si dirà, beh sì però l'anno prima l'hanno dato a quella cosa, l'anno prima ancora l'hanno dato a quell'altra cosa e quindi se ci stava quello forse ci sta anche questa e così via. Ovviamente il premio Nobel perde gradualmente di credibilità. La necessità di dare un premio ogni anno è un vincolo troppo forte perché non ci sono scoperte di grande portata ogni anno, a differenza invece dell'inizio del 1900. Soprattutto perché ogni anno si insiste a voler dare tre premi Nobel e anche perché bisogna fare i premi Nobel a fette, metà a Roger Penrose, metà a Giorgio Parisi e in entrambi i casi un quarto e un quarto sono andati ad altre persone. Ovviamente bisognerebbe ripensarlo completamente, non dare tre premi all'anno per esempio, darlo forse un po' a sorpresa, ma non mi sento di suggerire nulla perché io non sono un difensore di questi premi, anzi credo che non dovrebbero essere dati proprio. A quella lettera che ho ricevuto non ho risposto perché non ho pensato che valesse il mio tempo, quindi non ho votato Giorgio Parisi, questo è sicuro. Non penso che siano una buona cosa i premi in denaro, soprattutto quando le cifre sono alte, nella scienza, perché la possono condizionare. Infatti voi non lo sapete ma non ci sono al momento soltanto il premio Nobel, ci sono tanti altri premi che voi non conoscete e che danno somme ancora più grandi e in maniera ancora più arbitraria. Non ve li nomino perché non voglio fare pubblicità. Credo che questo proliferare di premi sia anch'esso un segno dei tempi, un segno che ci dice che non è tanto importante la scoperta in sé, visto che ce ne sono sempre meno o non ce ne sono proprio in tanti campi. Non è tanto importante la scoperta in sé ma la socializzazione che c'è dietro e se voi andate a scavare nelle motivazioni con le quali vengono dati molti di questi altri premi, troverete sempre più riferimenti al fatto che l'autore o gli autori premiati hanno proposto delle idee che hanno suscitato grande interesse e grande dibattito, cioè che insomma hanno raccolto tante citazioni, hanno fatto società, hanno fatto rumore e dopo aver fatto rumore tornano nell'oblio perché di quelle non parlerà mai più nessuno, probabilmente per l'eternità. A tutt'oggi quindi c'è un proliferare di premi e ovviamente in questo tipo di situazione anche l'Accademia di Svezia che assegna il premio Nobel si sente un po' sotto pressione e probabilmente non sa che decisioni prendere, ha preso questa decisione un po' scontata di adattarsi a questo andamento. Vi vorrei ricordare che esistono ogni anno il premio Nobel per la chimica, che esiste il premio Nobel per l'economia e che di queste presunte scoperte che vengono fatte, che vengono premiate, sappiamo poco o nulla perché probabilmente non sono dell'importanza sufficiente per raggiungere il grande pubblico e ciò che raggiunge il grande pubblico non è che lo raggiunga per l'importanza e il valore di quello che rappresenta, ma per il fatto di fare società e appunto raggiunge il grande pubblico perché raggiunge il grande pubblico, quindi è qualcosa, è un discorso fine a se stesso, un discorso che inizia e si chiude nella socializzazione, nella aggregazione di attenzione attorno a certi temi per un certo tempo. Di certo se un premio viene dato perché tocca un certo territorio, una zona geografica o una certa zona tematica, poi la giustificazione diventa difficile perché nelle motivazioni quello non ce lo puoi scrivere, però se quello è perché non scriverlo, perché non avere il coraggio di scriverlo, perché non abbiamo il coraggio di dire effettivamente come vengono fatte queste scelte. Quella lettera è stata mandata a molti istituti italiani l'anno scorso e quando mai più sarà mandata a degli istituti italiani. Perché non le comunichiamo queste regole, se sono le vere regole con le quali si dà il premio? Un'altra cosa che mi ha veramente lasciato perplesso l'anno scorso, quando fu dato quel premio Nobel, fu la seguente. Andai su internet a fare una ricerca per vedere se ci fosse anche una sola voce critica. Sto parlando appunto del premio Nobel a Roger Penrose. Una sola voce critica, se ci fosse qualcuno che dice ma forse nessuna, nessuna, la conformizzazione ormai è tale che niente, zero. Nell'ambiente scientifico nei canali su YouTube voi non troverete altro che l'odi e l'odi e l'odi, va tutto bene. Perché? È perché gli stessi canali YouTube devono fare dei like e quindi lo stormo si regge sulla difesa dello stormo, di ciò che è la società, qualunque cosa sia. Spirito critico, zero. Discussione, zero. Ma già il Nobel dell'anno scorso, secondo me, meritava una certa discussione. Però dopo altri premi Nobel dati gli anni passati, con motivazioni che potevano essere un po' discusse, uno può dire, beh, quello a Roger Penrose ci sta, quello a Giorgio Parisi ci sta. Beh, allora ci sta anche un premio Nobel ai teorici delle stringhe. ci sta e ci sarà. A quel punto, quando ci sarà, coloro che seguono questo canale potranno dire io lo sapete. Grazie della partecipazione e mi raccomando di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di abilitare le notifiche in modo da restare costantemente aggiornati sui nuovi video e le nuove iniziative. Vi raccomando anche i due libri, Dalla fisica alla vita, Viaggio nell'infinitamente piccolo e ritorno, e l'involuzione del pensiero scientifico come la civiltà perde conoscenza, che sono molto utili per seguire le problematiche che affrontiamo in questo canale. Se potete spargete la voce sui social e se avete delle domande o dei suggerimenti lasciateli nei commenti. Alla prossima! Iscriviti al canale! Iscriviti al canale!